Musica Bentornati al TG della Piana, il quindicinale di informazione prodotto in collaborazione con i comuni della Piana. Vediamo insieme il sommario. Tra i due comuni inaugurano un percorso di salute per fare attività fisica camminando. Musica Non ci sono regole, non ci sono tecniche, punta solo il benessere del cittadino. Si chiama Muovi Lastra e Muovi Sesto e sono proprio i comuni di Lastra, Signa e Sesto Fiorentino ad aver messo a punto un percorso per potenziare l'attività fisica quotidiana di chi trova il piacere nel camminare, segnalando attraverso cartelli appositi o tramite una app per i più tecnologici i percorsi da attraversare in città. Una metropolitana urbana di nuovo tipo perché consiste in un percorso pedonale ad anello, il binario, di circa 6 km con diverse fermate 7 a Sesto e 7 a Lastra contraddistinte da un cartello. Scaricando l'app Metro Sesto e Metro Lastra è possibile conoscere gli orari della metropolitana pedonale, ovvero il tempo di percorrenza da una fermata all'altra basato sul proprio passo. Ogni treno può essere costituito da un singolo passeggero camminatore o da più persone organizzate nel gruppo Facebook ufficiale. La finalità è favorire l'attività fisica almeno tre volte alla settimana, come indicato dalle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e quindi promuovere la salute e prevenire attraverso il movimento le malattie croniche. E su questa iniziativa ascoltiamo gli assessori alle politiche sociali dei comuni di Sesto, Fiorentino e Lastra Stiglia. Il progetto consiste nella strutturazione di una vera e propria infrastruttura, che è questo percorso accompagnato da una app, a cui i cittadini potranno fare riferimento per imparare e rafforzare la pratica quotidiana dell'attività fisica. Sappiamo da tutte le indicazioni scientifiche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che l'attività fisica costante, con certe caratteristiche, quindi non sono quelle dello sport intensivo, aiutano a prevenire molte delle malattie croniche. L'idea è quella di trovare questa infrastruttura a disposizione sotto casa per poter fare attività, quindi è un investimento sulla salute della nostra comunità presente e futura. Un punto fondamentale di questo progetto è la gratuità e l'universalità. Invece di spendere anche cifre importanti per la prevenzione sportiva e sanitaria, anche se questo è un progetto sanitario e non sportivo, noi offriamo un sistema disponibile a tutti che se seguito con costanza produce gli stessi risultati, se non addirittura superiori, ha un servizio, un'offerta o una pratica invece sviluppata solamente in alcuni periodi della settimana con concentrazione temporale e non in costante, non nella quotidianità. Spostiamoci ora a Segna dove da gennaio scatterà una tariffa unica per le menze scolastiche. Da gennaio tutti i bambini di Signa, che frequentano le scuole dell'infanzia nella frazione di Sant'Angelo all'Ecore, e le scuole dell'infanzia ed elementare in quella di San Piero a Punti, pagheranno le stesse tariffe della menza vigenti per i bambini dell'istituto comprensivo del capoluogo. La decisione del comune di Signa comporterà un significativo risparmio per molti genitori con un abbattimento della tariffa della menza. Non sarà necessario da parte delle famiglie inviare documenti o richieste tranne per coloro che non hanno ancora presentato la dichiarazione ISEE. L'ufficio pubblica istruzione del comune ha già a disposizione l'elenco degli iscritti alle scuole interessate e le dichiarazioni ISEE. Il comune ha anche intenzione di risolvere al più presso il problema delle famiglie cui i figli frequentano l'elementare Marco Polo di Campi Bisenzio. Prima con un aiuto economico, poi facendo rientrare anche questo servizio nella convenzione per assicurare la stessa tariffa di Signa. E andiamo a Calenzano dove il comune organizza una grande festa per i suoi atleti. Una festa per celebrare tanti atleti di Calenzano che nell'ultimo anno sportivo si sono distinti in ambito regionale, nazionale e mondiale. La festa alle 16.30 di venerdì 6 dicembre nell'Aula Magna del Design Campus. Sarà un momento dove premieremo i nostri ragazzi del territorio che si sono distinti per meriti sportivi dal provinciale al mondiale perché abbiamo anche ragazzi che hanno raggiunto importanti traguardi dall'europeo al mondiale. Gli atleti premiati saranno oltre 150 nelle varie discipline atletica, ciclismo, danza, equitazione, nuoto, triathlon, pattinaggio, artistico, scherma, ginnastica, ginnastica artistica, karate, pallacanestro, pallavolo, sbandieratori e tiro al volo. In totale hanno vinto 11 titoli provinciali, 40 regionali, 94 nazionali, 8 europei e 3 mondiali. Oltre a questo vogliamo dare risalto all'Associazione del Territorio che svolgono un compito fondamentale, accolgono tanti ragazzi tutti i giorni arrivando a svolgere sul territorio anche una prevenzione al disagio sociale. Festa condotta da Raul Guidotti dei Gemelli Siamesi con ospite d'eccezione Chiara Masini Lucetti, la nuotatrice calenzanese che ha vinto l'oro nello stile libero agli europei di Berlino 2014 e l'argento nello stile libero ai mondiali 2015. E chiudiamo con Campi Bisenzio e con le luci che si accendono per il Natale. Campi Bisenzio fino al 22 dicembre ospita fiabesche suggestioni, la camera da letto di Babbo Natale, la sua tavola da pranzo, il suo ufficio postale, la maestosa e suggestiva sala del trono, la sua cucina, la sua slitta con le renne, il laboratorio dei giocattoli di legno e il punto letterina. Insieme al mondo di Babbo Natale a Villa Montalvo le atmosfere natalizie invaderanno il centro cittadino di Campi Bisenzio. Un Natale veramente straordinario, straordinario e con presenze straordinarie da tutte le parti più lontane, da Roma, Perugia, l'Emilia Romagna, quindi veramente che abbraccia un po' tutto, anche i posti più lontani. Soltanto domenica al mondo di Babbo Natale praticamente duemila presenze, soltanto in una giornata, quindi veramente contentezza, grande soddisfazione da parte di tutti. È un mondo di Babbo Natale che ha praticamente abbracciato un po' tutta la città. Il mercatino di Natale, ma anche la pista di ghiaccio in piazza, fra Ristoro, le giostre in piazza Gramsci e altro ancora, con tutti i punti del mondo di Babbo Natale che saranno collegati da un trenino. L'intento è quello di raccogliere le famiglie, di farli stare insieme, di poter far vivere appunto il Natale come è giusto che sia in famiglia, creando anche qualcosa di bello, quindi tantissimi spazi ludici per i bambini, per i genitori che possono stare veramente, finalmente insieme. E chiudiamo qui il nostro TG della Piana, ci vediamo con il prossimo numero. TG della Piana TG della Piana